Cari sorelle e fratelli all'ascolto, siamo ognuno e ciascuna nelle proprie case, ma non siamo distanti perché uniti e unite nello Spirito Santo e alla presenza di Dio. Proclamiamo la nostra lode a Dio facendo nostri i primi quattro versetti del Salmo 66. Al direttore del coro canto Salmo Fate acclamazioni a Dio, voi tutti abitanti della terra, cantate la gloria del suo nome, onoratelo con la vostra lode. Dite a Dio come sono tremende le opere tue, per la grandezza della tua potenza i tuoi nemici ti aduleranno. Tutta la terra si prostrerà davanti a te e canterà a te, canterà al tuo nome. Signore, rendici capaci di rodarti come fa il salmista. Rendici capaci di rodarti quando siamo felici, ma anche quando siamo tristi. Che la gioia che esprime il salmista possa diventare anche la nostra, almeno per oggi. Amen. Proseguiamo la nostra preghiera con l'inno 42. Grazie a Dio, grazie a Dio. 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 E' tratta dell'Evangelo di Giovanni al capitolo 14, versetti dal 15 al 21. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre. Lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscerete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E io lo amerò e mi manifesterò a lui. Che Dio benedica alla lettura della sua parola. Nel testo che abbiamo appena letto insieme, Gesù fa una promessa ai suoi discepoli. E che promessa? Promette di star loro sempre accanto. Dice loro che non li lascerà mai orfani, come un padre che andando in un posto lontano intercetta lo sguardo smarrito e un po' impaurito dei suoi figli e promette loro di tornare presto. Allo stesso modo, Gesù, cosciente di quello che accadrà, intuisce lo smarrimento dei suoi. Probabilmente la loro domanda sul dopo Gesù, il loro spaventato, cosa faremo senza di te, compariva chiaramente sui loro volti. Così Gesù, come un padre che non vuole lasciare i suoi figli e l'amaro gusto dell'abbandono, promette loro di stargli accanto. La vicinanza che promette Gesù, però, e qui sta la particolarità, non è simbolica. Il rimanere con loro, infatti, non si basa su un ricordo, su un gesto da compiere, ma è concreta e reale, è lo Spirito Santo. Gesù lascia ai suoi discepoli, qui considerati figli, la promessa di non lasciarli mai soli. Certamente anche Gesù si rende conto che una promessa del genere è un po' pretenziosa e che il continuare a vederlo potrebbe sembrare quasi una bugia. In effetti, se qualcuno se ne va o muore, come possiamo sperare di vederlo ancora? Così Gesù chiarisce bene questa strana affermazione. Dice infatti, nel nostro testo, che solo i discepoli continueranno a vederlo, non il mondo. Questo non significa certamente che i discepoli posseggano una vista migliore, né tanto meno che siano migliori di quelli e di quelle che, secondo questo testo, non sanno vedere. Come sapete, infatti, molti di loro molto presto lo tradiranno. Forse il senso di quanto abbiamo appena letto si nasconde nel fatto che i discepoli devono saper proiettare nel futuro l'esperienza della vicinanza di Dio che hanno fatto con Gesù. Se lo leggiamo così, l'invito che fa Gesù ai discepoli ci risulta più chiaro. Ecco che cosa il mondo non vede, la presenza dello Spirito Santo nella propria vita. Chi ha vissuto come i discepoli nel nostro racconto l'esperienza della presenza di Dio nella vita vissuta insieme a Gesù, sembra dirci il nostro racconto, non può non sentire la presenza reale di Dio nella propria vita. Non vedere Gesù allora non è sinonimo di ignoranza, ma di mancanza d'esperienza. Ma attenzione, anche riconoscere lo Spirito Santo non significa essere perfetti o migliori. Ai discepoli ha dato semplicemente di riuscire a vivere concretamente l'esperienza della vicinanza di Dio nella loro vita, a patto che, come vedete la grazia di Dio è gratuita ma non a buon mercato, a patto che i nostri protagonisti rispettino i comandamenti. Ma quali sono questi comandamenti che Gesù chiama Suoi? Certamente non sono altri rispetto al Decalogo del Sinai, che Gesù può a buon diritto considerare Suoi, perché in Gesù è Dio a manifestarsi. A prima vista sembra che qui Gesù si comporti come un padre che, preoccupato per il carattere irrequieto del suo bambino, gli promette al suo ritorno un grandissimo regalo, ma solo se farà il bravo. Gesù sembra dire questo anche ai discepoli. Se farete tutto quello che vi è comandato, allora avrete il dono dello Spirito, altrimenti non se ne parla neanche. Se leggiamo il nostro racconto con questo sguardo, sembra proprio che lo Spirito Santo sia la ricompensa per essere stati dei bambini e delle bambine obbedienti. E davvero questa lettura mi sembra una deriva all'invito biblico alla libertà e alla responsabilità del credente. Posto che agli occhi di Dio non siamo bambini al quale dare un premio in base al merito, ma figlie e figlie salvate per amore, rimane l'interrogativo. Che cosa vuol dire rispettare i comandamenti? La presenza dello Spirito Santo nella nostra vita non è la conseguenza del rispetto dei comandamenti, ma è il rispetto dei comandamenti che ci permette di vederlo. Se ci pensiamo bene, in fondo i comandamenti non ci chiedono che tre cose, onorare Dio, rispettare gli altri e noi stessi. Ai discepoli allora è chiesto di osservare i comandamenti come testimonianza della presenza dello Spirito nelle loro vite. Gesù sembra dire loro che seguire i comandamenti fa apparire lo Spirito, perché in essi si manifesta la potenza di Dio e la possibilità di immaginare un mondo diverso. Ecco, i comandamenti sono la messa in pratica dell'idea che ha Dio del mondo e degli esseri umani. La domanda che serpeggiava nello sguardo dei discepoli era forse proprio questa. Come possiamo realizzare il regno che tu ci hai promesso senza di te? E la risposta di Gesù non si fa attendere. Continuate a fare ciò che avete sempre fatto. Continuate a grisare dai tetti che le persone possono guarire, che le cose possono cambiare. E quando lo fate e vi sembra difficile, ricordatevi che Dio è con voi, concretamente, in Spirito. A me questa immagine piace molto. E forse può servire anche a noi quando ci sentiamo soli ed abbandonati da Dio, dalla speranza e dalla fiducia nelle cose che facciamo. Quando ci sembra che tutto sia inutile, vale forse la pena di ripensare a questo passo biblico. Oggi più che mai può servire a tutti noi, e a tutte noi, che siamo un po' come i discepoli, soli ed abbandonati. Come per loro, anche per noi, deve valere la risposta di Gesù. Continuate a fare ciò che siete chiamati e chiamate a fare, e non sarete più sole ed abbandonati. La chiamata alla quale Gesù ci invita a rispondere ci suggerisce un altro particolare molto importante. La Bibbia e la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita non sono ricordi fissati di una gran bella esperienza, come in una fotografia. La parola biblica e lo Spirito Santo sono spirito di verità, che concretamente può colorare le nostre vite di tinte di speranza, invece delle più facili tinte fosche, che più facilmente colorano le nostre vite. Gesù intuisce che con la sua assenza i discepoli potrebbero perdere la speranza, cosa che poi in effetti succederà. Per questo egli insiste molto sia sulla presenza reale dello Spirito nelle loro vite, sia sul rispetto dei comandamenti. La presenza di Dio nel mondo sembra ricordare a noi e ai discepoli Gesù non si misura solo quando tutto funziona come dovrebbe, quando si ha la fortuna di avere al nostro fianco una persona che per noi è importante, come era per i discepoli Gesù, ma più che mai quando le cose vanno storte. Se io e te, fratello o sorella, che ascolti abbiamo la fortuna di vedere la presenza concreta dello Spirito nelle nostre vite, non dobbiamo tacerlo. Solo così forse riusciremo a farlo scorgere a chi non ha più la forza di vedere Dio nella propria vita. Se io e te, fratello o sorella, che sei all'ascolto, siamo tra quelli e quelle che non riescono più a sentire la presenza di Dio nelle proprie vite, preghiamo Dio che ci faccia incontrare qualcuno come i discepoli, qualcuno che sappia insegnarci a guardare la vita con altri occhi, quelli di Dio. Non è mai semplice, ora meno che mai, sentire la brezza leggera del soffio dello Spirito nelle nostre vite, sempre così incerte, ma questo testo ci ricorda che c'è e ci spinge a cercarlo meglio dentro ad esse. Amen. Ci raccogliamo in preghiera con l'enno 305. con la pace che perdiamo, di Dio, di Dio, di Dio, di Dio, di Dio, no, e ci raccogliamo in preghiera con l'enno 305. Quando stagli e travagliati nella prova ci troviamo, il Signore non ci ha lasciati, tutto, tutto a Lui portiamo. Ci abbandonino altri amici, ma Gesù ci accoglierà. E con Lui saremmo felici, che rivolgo ci trarà. O Dio accoglie le nostre preghiere che timidamente ci rivolgiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ci raccogliamo in preghiera per la benedizione finale. Aiutaci, o Signore, affinché le parole dette e le preghiere fatte non siano tenebra, ma luce per il mondo. Dunque, con la certezza del perdono e della vicinanza di Dio, come ci insegna Gesù, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Con questo impegno scolpito nei nostri cuori, ci benedica il Dio della libertà, della pace e della giustizia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona domenica e buona settimana.